L'ho chiamata e lei continuava a dirmi entra in diretta, io non volevo avere un confronto con lei e infatti io non sono entrata in diretta e non l'ho avuto come non sono entrata oggi. A me andava bene, se in diretta faceva solamente le scuse come ha fatto ieri, però dal momento che tu fai le scuse in diretta e poi oggi la gente mi viene a scrivere, mi dicono già entra in diretta, stanno parlando di nuovo di te e mettono in dubbio la mia serietà. Ma in questo modo stiamo ritornando allo stesso punto, vuol dire che non gli è servita la lezione e non serve, io mi trovo costretta a fare questa diretta perché non ce la sto facendo più. Sono non incazzata ma proprio ho questa rabbia verso di lei per come si è comportata, che non mi meritavo questo comportamento da parte sua immaturo e infantile e sta continuando. E io non voglio avere nessun confronto con lei, non merita aver confronti, lei si deputa mia conoscente, bene, è una mia conoscente, ma fino a quel punto lei non si deve più permettere di avere il mio nome in bocca. Ora anche dubitare della mia serietà in una diretta davanti a tutte quelle persone di Twitch, mettersi in mezzo in una situazione che non la riguardava perché solo io e Dennis sappiamo cosa abbiamo vissuto. Io potevo smerdarla, però sono stata zitta. Sono stata zitta e ci sono tante cose che voi non sapete che io non dirò perché io non voglio smerdare nessuno. Mi reputo superiore a lei e io penso ragazzi che questa situazione deve essere chiusa. Tanto torna tutto, torna tutto, torna tutta la cattiveria.